Grazie a tutti. 10 secondi, il ritardo del gruppo, l'applauso del pubblico di Roma e per Alfredo Paglioni che inizia l'ultimo giro, inizia l'ultimo giro di Sato Paglioni, il giro di apri, seguitore un portacolori della Nazionale, della Russia, Presidente Sissanti e Borsini, il suo rivincitore della passata stagione. 10 secondi, il ritardo del gruppo, è un grande finale quello dell'iterazione 2009. Chissanti, al termine, una mania dell'antà, mi sembra in prima posizione, stiamo per conoscere il vincitore del Liberazione 2009 e vince il Liberazione con il dorsale numero 82. 6 secondi, il grande ammiraglio del ciclismo, un personaggio che tutto il mondo ci invita, consegna la magia al vincitore del Gran Premio della Liberazione. Quarta firmazione stagionale per Sacha Maldolo, servizio di Raffiore. Applausi Oppimento a Maldolo, che viene premiato, bravo, 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 bravo. Applausi Grazie 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 a tutti grazie 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 a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.